L'ultima carriera, l'ultima terra di questa carriera, parte la battaglia per Urbino su Amir. A questo punto non si vede perché è una battaglia di volontà Amir con il solo problema. Ragazzi, c'è il palio, c'è la somma di monti, sapete che c'è ancora lì? I quattro monti sono importanti, i quattro monti di San Romercio. È partito, è partito la terra di Urbino, i colori sono prima attività da prendere tre anelli di sottomonti. Due. A questo punto non si vede perché è una battaglia di sottomonti. Grazie. Grazie.